Buonasera da Massimo Giacquinto tornano i timori sulla solidità del sistema bancario internazionale mercati finanziari in affanno piazza fari la peggiore la BCE è pronta a intervenire. Borse in caduta libera schiacciate dalla debolezza delle banche che continuano a essere bersagliate dalle vendite con Deutsche Bank finita nel mirino degli investitori dopo aver deciso il rimborso anticipato di alcuni bond subordinati. Il gigante tedesco a cui molti analisti riconoscono una struttura finanziaria stabile e importi significativi di eccesso di liquidità è precipitato del quattordici per cento per poi chiudere a oltre meno otto per cento. È un nuovo colpo agli stini già provati dalla crisi di Credit Suisse e pochi giorni prima dalle banche americane Silicon Valley e First Republic perdono fiducia tutti negativi tanto a Wall Street che in Europa dove Milano è maglia nera con meno due e ventitré per cento. La caduta impicchiata scatenata da Deutsche Bank ha trascinato la tedesca Commerce Bank, la francese Societe Generale per non parlare appunto di UBS e Credit Suisse e in Italia non è andata meglio per BPM, BPER e Unicredit e questo nonostante ci sia liquidità in abbondanza e patrimoni tra i migliori d'Europa sottoscrive Sileoni, segretario generale Fabi che assicura i soldi sui conti correnti sui conti correnti non corrono rischi. Paola Bonanni GRU